Numero 1, laureato un po' qui da League of Legends! Un applauso schizza! Sembra che tu abbia lasciato il coraggio a casa. Vuoi che aspetti mentre lo vai a prendere? Mi va un po' in l'aria, ma ci crescerà dentro. Il martello non è mio. Lo tengo solo fino a quando un degno possessore non si mostrerà. Ho sentito parlare un sacco di questo eroe con il martello. Lupito l'ora di incontrarlo, sicuramente non sei l'eroe. Bravissima Laura, un applauso!